A livello nazionale l'Istituto Zoo Profiliatico di Termo rappresenta una grande eccellenza, un grande orgoglio, qui è stato fatto un lavoro straordinario anche sul sequenziamento del virus, che è un aspetto fondamentale sul quale ovviamente dobbiamo investire ancora di più e dobbiamo mettere nelle condizioni queste eccellenze di poter lavorare ancora meglio perché danno un contributo fondamentale per affrontare anche scenari futuri. Quando parliamo di discoteche innanzitutto non dobbiamo pensare solamente a luoghi di divertimento perché sono 3.000 le attività di questo settore nel nostro paese e occupano oltre 100.000 addetti, quindi parliamo di vere e proprie realtà economiche e produttive e oggi nel nostro piano di riapertura le discoteche sono l'unico settore che non hanno ancora una data e giustamente credo che invece dobbiamo dare pari dignità e dobbiamo indicare anche loro una data per potersi programmare, per poter riorganizzare la propria attività. Io ho incontrato i rappresentanti sindacali, non chiedono di aprire domani, chiedono di poter programmare, di individuare insieme una data condividendo dei protocolli che garantiscano la sicurezza, la tracciabilità, il monitoraggio e credo che nel momento in cui abbiamo individuato il Green Pass come elemento di sicurezza e di garanzia possa essere un elemento che si possa declinare anche per quanto riguarda le discoteche. Credo che dobbiamo avere assolutamente massima fiducia nella nostra comunità scientifica, nel nostro ente regolatore AIFA, nel nostro CTS perché certamente sapranno fornirci gli elementi utili per proseguire questa campagna vaccinale. Non dobbiamo dimenticarci che il vaccino è l'unica via d'uscita per uscire definitivamente da questa pandemia e anche le libertà che stiamo riprendendo, queste aperture graduali, questo graduale ritorno alla normalità lo si può fare perché c'è stato un piano vaccinale che ha dato i suoi risultati, oggi sono in Abruzzo dove ci sono risultati straordinari, credo un esempio da seguire, quindi credo che le cose stanno andando bene. Su AstraZeneca ovviamente c'era una raccomandazione che noi avevamo dato ma semplicemente avevamo preso atto di quelle che erano le indicazioni dell'Ema, poi ovviamente c'è stato anche un parere da parte di AIFA, credo che sia una di quelle scelte ovviamente che spettano più alla scienza, non alla politica, non credo che spetti a un politico o al commissario Figuolo decidere che tipo di vaccino somministrare a quale età, quindi ripeto ci atterremo a quelle che saranno le eventuali altre indicazioni.